ciao ragazzi eccoci qui in un nuovo video quest'oggi apriamo un bel po di casse iniziamo da queste 22 di oro 4 scelli 6 bull e un ticket un'altra cassa 16 di oro 10 gessi 15 nita e 200 raddoppi oggettoni beh ora e dobbiamo apriamo per forza prima questo apriamo 51 d'oro 13 gessi e 28 bull dai un personaggio nuovo ti prego un'altra volta da ieri sera perché brawl stars l'ho riscaricato ieri sera bello personaggio nuovo stick gg un'altra cassa 5 stecca e 3 gettoni faccio vedere un poco la mia collezione comunque raga se volete una serie su questo ditemi che io ve la porto e niente comunque cioè io gioco da ieri perché la vecchia account l'ho perso perché l'avevo disinstallato che non mi piaceva più mi faccio una partita in football va bene sto usando nita perché c'è la devo portare a grado 10 così mi dà i punti stellari questi qua e niente c'è una partita eccoci qua ucciso c'è l'hanno ucciso non l'ho ucciso io allora siamo super no si gol no me l'ho ucciso vabbè no dai si vittoria prima io stavo verso le 2300 aspetta ma stavo tipo qua su su tipo questa cassa qua sui 2500 vabbè 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 non tengo mi faccio vedere il negozio sempre se non lag io potrei aprire questa la cassa enorme però mi sto mi sto conservando tutti i gettoni stellati perché voglio prendermi la mega cassa poi ci farò un video quando la prenderò e mancano 5 giorni e 14 ore perciò mi voglio portare tutti i brawler verso i 15 di grado e niente ci vediamo ad un prossimo video e 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